Ciao Alissa! Ciao! Che ci fai qui nella casa di Gilberto? Mi ha invitato lui per prendere un tè, stavamo un po' chiacchierando, rilassandoci Ah, ok, è una bella idea, perché io non sono stata invitata, scusa? Però, anche se non mi avete invitata, io sono buona E quindi sono venuta qui per darti un regalino Che arriva da un'artista Che la trovate sotto il nome di Maninatto Maninatto, già dal nome c'è un po' un gioco di parole Si capisce che è una persona che gioca con le frasi E ci gioca creando degli oggetti molto particolari e simpatici Che mi hanno fatto pensare a te A Gilberto In realtà, diciamo che non è che l'ho presa solo per te Alissa Allora, intanto vediamo come ha impacchettato le cose Perché questo è il pacchettino della posta Ok Con le mani Allora, ecco qua, come vi dicevo si chiama Maninatto E ho ordinato tre cosine Da quale vuoi partire? Dalla scatola Dalla scatolina Vediamo cosa c'è Oh Intanto delle caramelle che ad Alissa piacciono molto Rossana E c'è un bracciale Con una scritta che dice Non cerco soluzioni Voglio solo lamentarmi Questo è un bracciale perfetto per quando uno Cioè, quella giornata storta, no? Dove si vuole lamentare Non vuole che la gente stia lì e dirgli Ah, però dovresti fare così Dovresti fare cosà Hai provato a fare questo Hai provato a fare quello Basta Non cerco soluzioni Voglio solo lamentarmi Perché dopo sto meglio? Perché mi sono lamentata? Beh, in realtà io non sono una lamentona Però le poche volte che mi lamento Mi voglio proprio solo lamentare Basta Sì È simpatico, vero? Sì Ma per esempio Questa frase si adatta anche un po' a te in certi casi Sì, come quando sto facendo i compiti Come matematica Che sai che non mi piace Quindi un po' mi lamento E tu arrivi e mi vuoi spiegare tutto Ma io no Voglio solo lamentarmi Anche se poi la so fare Ah, ecco Cioè tu sei lì e dici Ah, è impossibile questo problema Questa cosa E basta Cioè, basta Vuoi dirlo senza che uno si mette lì a spiegarti la matematica? Sì Ah, ok Buono a sapersi E così non te la devo spiegare più Ok, poi? Poi apriamo quest'altro E da qua Ah Da qua entra e da qua esce Sono gli orecchini Questi sono da mettere appunto sulle orecchie Perché quando uno ti dice qualcosa Proprio Da una parte entra e dall'altra esce Ma questi li ho presi proprio per me Per tutte le volte che qualcuno mi fa delle critiche O mi dice delle cose Così Per fargli capire che tanto possono dire quello che vogliono Perché tanto da qua entra e dalla esce E poi li ho presi a clip Così vanno bene anche per chi non ha il buco Tipo Alissa che le si è chiuso Manca a me Oh Questi però non sono da mettere a scuola No Da qua entra Da qua esce Quando la messa spiega Ecco no Anche se un pochino è così È così però non credo che lei sarebbe felice No Ma ora vediamo l'ultimo pacchetto Datemi tregua Datemi tregua Questa è in romano Cioè per favore lasciatemi in pace Cioè risparmiatemi Datemi tregua Ecco questa me la devo proprio attendere al collo Perché io ho veramente sempre 3000 cose da fare E arriva sempre la 3000 e unesima Di qualcuno che vuole qualcosa E allora per favore Io che ti chiedo un bicchiere d'acqua Datemi tregua Questa è perfetta per le mamme E questa è la collana perfetta per le mamme Così ogni volta i bambini li chiamano Oppure anche per tutti quelli che ci hanno sempre qualcosa da ridire Vabbè insomma ragazzi Andate a vedere la sua pagina che ve la metto nel link in descrizione Perché fa una cosa più bella dell'altra E vi giuro non saprete scegliere che cosa commissionarle Perché è tutto bellissimo E poi ci sono frasi che si adattano a ogni occasione Ma anche a ogni persona Quindi per i regali o per qualunque cosa Trovate proprio la frase giusta Simpatica, divertente Da regalare anche a qualcuno Anche a un Gilberto se necessario Vabbè Alissa niente Hai aperto il pacchettino Ti volevo far vedere queste cose Le abbiamo fatte vedere a tutti Quindi speriamo di avervi fatto conoscere Un artista interessante Per noi lo è sicuramente Questa sono io con i compiti per casa Per tutto Cioè questa collana si adatta a qualunque circostanza È perfetta Mettitela Così dopo sei completamente accessoriata Mani in atto Comunque vabbè Io vi metto il link Ma il nome è Mani in atto Quindi facile da ricordare Facile da trovare La trovate su Facebook Dove l'ho trovata io Ma è anche su Instagram Vediamo un po' Alissa Cioè Oggi sei inattaccabile Praticamente Da qua ti entra Da qua ti esce Ti dobbiamo dare tregua Quindi non ti dobbiamo rompere le scatole E tu ti puoi lamentare Senza che nessuno stia lì A darti soluzioni ai tuoi problemi Mentre mangio le caramelle Cioè Basta Definitiva Va bene ragazzi E allora Noi per oggi Vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao